e poi alle prossime politiche? è un voto importante quello della regione, un voto più importante di quello che si pensi ad esempio non fosse altro che la regione significa la sanità e quanto più prezioso della nostra salute, soprattutto quando uno ha bisogno di cure, quindi tutto questo rientra nelle competenze, nelle decisioni della regione e quindi è un voto utile quanto il voto delle amministrative, è vero che le amministrative si tocca più concretamente ma anche la qualità dei nostri ospedali, la qualità delle cure si tocca altrettanto concretamente, dunque è importantissimo davvero andare a votare. Senti, non ci sono più le province, i pistoiesi si sentono anche un pochino forse più trascurati, ma un consigliere alla regione può fare la differenza per Pistoia? Con il superamento delle province chi va in regione non andrà a fare teorie a strada, non occuparsi di questioni poco concrete, una per tutta è la sanità, poi potrei dire le infrastrutture, il turismo, del resto gran parte di quelle che erano le competenze della provincia vanno alla regione e scomparendo la provincia dunque chi va in regione deve fare la staffetta tra i comuni e la regione affinché i riflettori della regione siano sempre aperti e forti sul nostro territorio e su queste esigenze, un territorio che ha parlato molto della crisi di questi anni e che dunque deve essere al pari degli altri territori della Toscana nella sfida per ripartire. La ferrovia, noi abbiamo questo problema duplice, la linea da raddoppiare verso Lucca, verso Viareggio e poi il problema della Porrettana, anche su questo si può fare pressione? Anche su questo si deve fare pressione, sul raddoppio della linea da Pistoia a Lucca, governo e regione finalmente hanno stanziato le risorse. Entro agosto partono lavori tra Pistoia e Montecatini, però poi c'è tutta l'altra partita, quella del tratto Montecatini-Lucca e siccome le nostre ferrovie sono dell'Ottocento, questo intervento è un intervento davvero importante che aiuta la nostra economia e aiuta anche la vita dei brindolari, uno dei quali sono acquistato anch'io che spesso con questa storia del binario unico si trovava a fare viaggi lunghissimi e appesi all'equilibrio fragile in cui un treno capitato costringeva magari a stare 10, 15, 20 minuti e 30 in una stazione e quindi questo serve davvero a velocizzare il trasporto merci e il trasporto poi appunto delle persone rispetto al quale c'è una domanda crescente. In Toscana le presenze sui treni aumentano, quindi significa un servizio importante che deve essere potenziale. Sulla correttana quale? La stessa cosa, in particolare bisogna valorizzare tra acchia e l'interscambio tra gomma e rosario, sia per le merci sia rispetto anche alle persone. A me piacerebbe che la nostra correttana fosse un po' come quello che la correttana significa sul versante bolognese. Sul versante bolognese è una ferrovia molto utilizzata sia per le persone sia per il tessuto produttivo. Invece spesse volte appunto da noi questo non è. Invece quella ferrovia io penso che non sia solo un pezzo importante della storia del nostro paese, della storia del trasporto sul nostro paese, ma sia anche un elemento da valorizzare per la nostra montagna sia dal punto di vista turistico che per il trasporto, sia delle persone che delle merci. È chiaro però che la regione ha dato un contributo importante per il consolidamento della linea, ora però bisogna farla vivere e farla vivere significa più passeggeri e anche magari qualche trasporto medici su quella linea. No, ma grazie. Noi ringraziamo Marco Nicolai. A presto. Grazie a voi.